a tutti ragazzi come vedete questo gioco è il gioco del dinosauro di quando ti salta la connessione questo è il mio punteggio massimo 1653 oggi lo supereremo usando il dinosauro quindi iniziamo via per ora è una chiara perché mi dà un po' fastidio questo suono beh molto interessante però 308.000 poi ci sono anche dei cremi in questo gioco io sono arrivato a 1.600 credo di aver già sbloccato delle schiene una si sblocca 500 una 500 quando lo fai 10 volte una 1.100 una 1.100 quando lo fai 10 volte una 1.300 una 1.300 quando la fai 10 volte una 1.500 una 1.500 quando la fai 10 volte stima stima ho detto di aggiornare no quindi non aggiorno beh credo stiamo andando bene oh c'è un pipistrello un gabbiano comunque dovre... no niente uccidiamoci infatti ho avuto le schiene... togliamo il rumore ho la schiene degli occhiali... allora c'è il rimbocchetto lo mettiamo subito steam e niente... niente steam mi ha rotto tutto salta la registrazione così steam... team... niente ci sono le piante di super mario gli occhiali da sole e la mascherina provare prima gli occhiali da sole bellissimo saltiamo beh bellina scriviamo la mascherina che è meglio pronti bello il dinosaurio con la mascherina quindi le piantine sono cambiate però ci sono anche i cactus queste piantine sono molto più basse però sono più grasse non devo far battuto mettiamo questo ma ok non facciamoci domande saltiamo allora continueremo così fino a quando non lo dico io perché perché mi lagga ogni tanto lagga ogni tanto come mai perché io sto registrando al telefono il telefono collegato tramite la sua carica batteria al computer con... ti sei connesso alla nuova rete è la rete... imposta come rete privata... a posto... no eh dai no in pratica... ma ho visto una faccia strana ma lo stesso... in pratica... in pratica il telefono attaccato tramite il cavo del carica batteria e l'ho attaccato al... guarda la faccia quella strana lì... avete visto bene... è attaccato tramite il suo cavetto al computer uso quell'app che ho usato anche mio fratello per in alcuni video che fa vedere lo schermo del telefono nel computer e in pratica sto registrando dal telefono però nel mentre guardo nel computer se lagga un po' la registrazione e in pratica che adesso lagga un po' quando salto e atterro... adesso ha laggato... si... continuiamo... ma questa skin non mi fa capire bene come sto quindi mettiamoci così con la mascherina... a posto bongo cat... bo-bongo cat... bo-bongo cat... bo-bongo cat... salta dinosauro... salta dinosauro... è molto divertente saltare ma senza un dente... lo raggiungerai... la vita per scoprire nuove avversità... vabbè ci ho infilato alla fine Dragon Ball me lo stesso... un po' cambiato me lo stesso... gelato al cioccolato... dolce un po' salato... gelato al cioccolato... Kamehameha... Kamehameha... un'onda di energia si sprigionea... I know body match... he's amazing catch... Dragon Ball Super Super Saiyan... il suo Goku non può fare errori perché adesso lui è un Super Saiyan... Super Sai... Super Sai... Super Sai... Super Sai... Super Sai... vai via entro subito a questa stanza per favore... gli intrusi... badonna... rainbow cat... rainbow cat... rainbow... guardate lì sopra c'è una faccia strana... sono quasi a mille spero... però brutto quando entriamo in modalità notte... poi il mio telefono è in modalità notte... perché non si... non si... cosa... beh... e se mi sia parte... blu... blu... no... bianco... blu... nero... piola... rosso... arancione... giallo... verde... blu... i colori del rainbow cat... son qui... quassù... sto usando la tecnica di Favij... Favidio... Jay Gay... mi dissocio... per... che canto... e nel mentre... salto così... tengo il lavoro... il cervello... e i riflessi... dovrebbero aumentare... managgio alla modalità notte... cosa... ho sentito il suono strano... non mi è saltato... è una truffa... truffissimo questo gioco... una truffa... un po' di cose che ho detto... continuiamo... la verità... ma per scoprire poi la verità... è Detective Conan... Detective con gli occhiali... pasto criminali... Sasakyo... Sasakyo... Shinzo... Sasakyo... Nanananana... ... nananananana... nananananana... Bello il mio fratelli sottofondo che... ...ci arrabbia per un minchia di... tiktok... Tic toc è devastante, va pure con tante a ballare senza... Sì, no, no! Zitto suoni molesti. Poi è vibrato mezza stanza, perché? Per scoprire poi la verità Canto adesso Ciccio vive in testa che canta detective Ciccio Adesso la canzone di Hamburgos del 2018 Adesso Ciccio conto in testa che dice uno di PCM Adesso Giorgio Vanni Adesso Ciccio a sigli che tocco a Yule Comunque faccio la live su questo gioco Questo è aggiornato di recente credo perché c'è la mascherina No, ho aumentato la velocità No, qui muoio Ehm... 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 Sono morto Quindi Qui concludiamo il video E ciao Poveri rimorto